Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli, vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dall'autostrada in Amuno, possibili disagi per presenza di veicolo fermo in avaria verso nord tra Calenzano e Vio Amuno Variante, segnalavano oltre personale su strada nelle due direzioni tra Sasso Marconi e Aglio. In A12 controllo della velocità in corso in direzione a Livorno tra Rosegnano Marittimo e Colle Salvetti. Siamo al traffico ferroviario, il treno 18283 Firenze-Santa Maria Novella-Pisa Centrale sta viaggiando con 23 minuti di ritardo per ritardo nella preparazione del treno. E prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Zurigo delle 10.35, quest'oggi è cancellato. Buonasera in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Per ora è tutto, buon viaggio.